salve ragazze benvenute e bentrovate siete qui nel mio canale io sono zahira questo il mio interattivo breve vi dico subito l'argomento una persona ti pensa tanto chi è e perché andiamo a vedere questa persona che vi pensa tanto chi è e perché vi pensa così tanto allora come vedete qui ho preparato le mie carte sono i tarocchi delle stagioni le messaggi magici delle fate e le carte verdi di zahira ragazze io inizio subito ovviamente vi voglio ricordare brevemente che sono dei interattivi collettivi generali quindi non possono assolutamente risuonare su tutti quanti voi quindi prendete con cautela diciamo le responsi prendete quello che vi riconoscete lasciate stare ciò che non vi riconoscete fermo restante che per chiunque voglia avere un consulto personale con me nella descrizione del video ci sono i miei contatti zahira fastari gmail.com o nel mio profilo facebook zahira fastari messaggio privato ancora nel mio profilo instagram zahira e sui tarocchi messaggio privato allora ragazzo le mie vi ringrazio sempre di seguirvi di seguirmi mi raccomando continuate a seguirmi e vi voglio bene siete nel mio cuore tutti qua sono uscite delle carte le prendiamo su 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 via le prendiamo le teniamo extra allora una persona ti pensa tanto chi è e perché andiamo a vedere allora intanto questa persona vi pensa tanto veramente perché le carte che sono uscite come vedete sono il sette di coppe e il cinque di spade quindi questa persona vi pensa e come se vi pensa peccato che comunque questo è una persona un po autodistruttiva andiamo a vedere una persona vi pensa tanto abbiamo è ragazze imperatore imperatrice ragazze no ve le devo far vedere guardate ecco qua ma voi siete la coppia la coppia peraltro bellissima imperatrice imperatore quindi questa persona ti pensa tanto chi è mamma mia ragazze mamma mia ragazze allora chi è questo questo è il nostro cazzone eccolo qua l'imperatore che vuole fare l'avventuriero vedete vuole sempre cavalcare i mari dell'avventura desiderio sempre d'avventura diciamo è una persona quando vuole sa essere amichevole indulgente è un uomo onesto per carità può essere anche coscienzioso bonario generoso quando vuole ma questo c'ha sempre desiderio di avventura di cose nuove è però con voi è cascato male essi è cascato male perché chi può tenere testa all'imperatore ragazze e ragazzi miei l'imperatrice quindi con voi lui purtroppo è cascato male perché mentre l'imperatore nell'energia del nella carta è comunque una persona di potere di controllo autoritario insomma una persona molto anche con dogmatico permaloso orgoglioso insomma racchiude molto ego l'imperatrice la dea è la dea è la somma delle quattro regine quindi voi con la vostra bellezza con la vostra sensualità con la vostra anche comunque pienezza proprio a 360 gradi nel come donna no comprensiva è la donna che tutti gli uomini desiderano di avere quindi lui vi pensa una persona vi pensa tanto chi è questa persona intanto è questo imperatore qua possiamo avere un segno di di fuoco ariete oppure anche sì sempre un segno di fuoco ma anche un segno di di aria bilancio gemelli acquario mentre invece insomma voglio dire qua il pensiero è comunque un pensiero fisso perché vi pensa tanto perché perché lui non può fare a meno di voi siete la sua imperatrice siete la donna amata vedete lui fantastica queste sono le carte uscite così fantastica tanto su di voi vi pensa non riesce a dimenticarvi peccato però che che quest'uomo un po autodistruttivo vedete con i cinque di spade vi ha fatto tanto soffrire e non si è comportato bene con voi ha creato vi ha ferito proprio l'anima con il suo comportamento vedete fra voi due c'è una forza cioè siete troppo tossi tutte e due vi combattete vedete quindi qua c'è un dualismo una forza bilanciata cioè voi cercate ognuno di voi di trovare la vostra vittoria come posso dire qua ci sono sentimenti e pensieri contraddittori perché perché ci sono dubbi ci sono stati litigi c'è molta indecisione a causa di queste competizioni che voi avete che vi crea questa situazione quindi questa persona che vi pensa una persona importante che della vostra vita sicuramente perché l'imperatore è un uomo importante che entra nella vita e quindi vi pensa tanto chi è è lui vi pensa tanto perché proprio non ce la fa a stare senza di voi è molto preso da voi ecco questo è il motivo per cui vi pensa tanto allora andiamo a vedere adesso con i messaggi magici delle fate che altro ci vuole dire su questa domanda quindi una persona ti pensa tanto chi è è perché andiamo a vedere quale altra indicazione ci danno queste carte anche qua prenderemo tre carte allora poi dice ai potere che di quello che vuoi lascia andare a fondo mazza di al vecchio benvenuto al nuovo allora questa persona mi pensa tanto chi è è perché allora intanto vedete questa persona vi pensa tanto e diciamo c'è questa fissa quasi per voi perché vedete voi al finalmente avete acquistato il vostro potere ai potere quindi voi avete riacquistato la capacità di superare questo momento quindi voi ce l'avete fatta l'avete lasciato andare vi siete allontanate quindi l'avete lasciato andare quindi quando voi lasciate andare il bisogno del controllo o vi lasciate andare chi vi controlla l'energia scorre così forte che poi attraete quello che avete lasciato andare è proprio una legge quasi come dire una legge dell'universo quindi adesso voi potete chiedere quello che volete vedete infatti l'universo dice chiedi quello che vuoi lasciare l'universo le persone sappiano ciò di cui tu hai bisogno quindi questa persona da solo è arrivato alla conclusione proprio perché voi l'avete lasciato andare avete riacquistato il vostro potere quindi adesso qualcosa si sta muovendo nell'universo per voi e che cosa si sta muovendo addio a vecchio e benvenuto al nuovo quindi qua ragazze hai concluso una parte della tua vita ora sta per iniziare una nuova che è persino più migliore persino migliore di quella precedente quindi questa persona che ti pensa tanto chi è abbiamo detto una persona del vostro passato che vi ha controllato molto che è stato un po vi ha far ferito insomma questo vi lasciava vi prendeva insomma cinque di spade ragazze ferisce l'anima questo vi ha fatto soffrire tanto voi però non siete da meno quindi avete reagito come si deve reagire siete l'imperatrice sì lui è l'imperatore ma voi siete l'imperatrice quindi questa persona l'avete lasciata andare avete acquistato il vostro potere e adesso potete chiedere ciò che volete e lui perché vi pensa tanto perché ragazze vuole tornare da voi perché il cavaliere di bastoni è una persona in movimento che viene messo di voi e questo non mi sorprenderei che adesso quando dice ho concluso una parte della mia vita sta iniziando una nuova questo vuole tornare con più vigore di prima però vediamo ancora una persona mi pensa tanto chi è e perché vediamo le carte verdi dice voglio divertirmi con te quindi comunque voi eravate molto bene perché insomma oltretutto siete una coppia carmica no imperatore imperatrice quindi questa persona con voi stava veramente bene dice ho voglia di chiarire con te quindi qua la tesi del ritorno si fa sempre più strada vorrei tanto rivederti eccola eccola ragazze fondo mazzo fondo mazzo dice perdonami non volevo allora vedete questa persona nonostante tutto vuole ciò quindi vi pensa tanto perché perché molto preso da voi chi è un uomo del vostro passato cosa vuole fare non era nel previsto nel interattivo ma ve lo dico io vuole che voi lo perdoniate perché vuole chiarire con voi perché vuole tanto rivedervi quindi questa persona vuole iniziare con voi vedete addio a vecchio benvenuto al nuovo un nuovo capitolo della vostra storia è sicuramente migliore di quella del precedente allora ragazze questo era l'interattivo io spero che vi sia piaciuto ovviamente sapete vi aspetto tutte quante nei commenti fatemi sapere se ci sono dei riscontri se qualcuno si è riconosciuto io nel frattempo vi mando un mega bacione mega galattico vi saluto a tutte quante al mio prossimo interattivo interattivo scusate ciao ciao